Le coincidenze possono influenzare il destino. Ma se vuoi qualcosa, devi conquistartela. Forse sono il principe azzurro che la tua amica sta aspettando e per colpa tua lei non lo saprà. Alcune dicono che sono arrogante. Sei un... Un che? Sei un maleducato. Ecco che cosa sei. Altri mi trovano irresistibile. E tu che ne pensi? Vai nella community di Violetta e raccontaci cosa succederà, secondo te, nella nuova stagione. Potresti vedere il tuo commento sull'episodio di Violetta. Tutto ricomincia con la nuova stagione di Violetta prossimamente sulla Disney Channel.